La prima cosa che mi è venuta in mente per la pezza è la lezione di Spagnolo Flash Un signore, io lo volevo con i baffi un po' sudato Con un po' di camicia aperta, un po' seduttore Che diceva La homosexualità E non so perché mi faceva ridere questa cosa Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement Ci siamo, se ci state guardando su Spotify Bella lì, perché su Spotify ci potete guardare e ascoltare contemporaneamente Se ci state guardando su YouTube, ciao anche a voi Insomma, l'importante è che in entrambi i casi attivate la campanella Ho scoperto che è una cosa molto importante Quindi se ancora non l'avete fatto, fate anche quello Così non vi perdete nessuno, nessun episodio Ciao, io sono Gianluca Gazzoli Nuovo appuntamento vuol dire nuovo amico che passa a trovarci dal Basement Insomma, sono contento perché è anche un'occasione per rivedere questo amico Perché era un po' di tempo che non ci vedevamo Ci siamo sentiti Ci siamo visti magari non direttamente Sono anche molto contento perché è la persona Adesso non so come dirla bene Che ogni volta non capisco mai quando sta dicendo una cosa sul serio O quando sta scherzando Perché l'amico che oggi è passato dal Basement è Valerio Lundini È vera questa cosa che tante volte non si capisce L'applauso No, l'applauso non è vero L'applauso non è vero Possiamo ufficialmente dirlo Sì, sì, no, lo percepi Da casa pensavo fosse sempre un applauso vero di persone che non venivano inquadrate Invece oggi ho visto proprio che è posticcio, che c'è un pulsante Che lo posso? Sì, in portoggio cercavo Questo è per le battute L'ho preparato per quando farei una battuta Allora quindi Ok, è questa No, no Sfumiamolo Sfumiamolo Il pubblico che diminuisce Sì, si, vanno via mentre applaudono Quindi è una strana forma di congedo E no, dico sempre le cose vere Sì, sì, sì Però hai sempre quell'ironia ovviamente che gioca ogni tanto sull'essere serio Ma dicendo cose che magari sono un po' meno serie Ah, sì, sì, no Tendenzialmente se ridessi di quello che dico sembrerebbe che sto cercando di Però molti lo fanno Sì, sì, sì No, ma se mi viene da ridere lo faccio ben volentieri Sì, sì, sì Ok Essendo cose che dico io già le ho pensate Quindi se le dici te magari mi diverto Se le dici un altro mi diverto se le dico io Funziona così Tant'è che a volte rido di alcune cose che mi vengono in mente Ma perché ridi? No, perché mi è venuto in mente questa cosa e poi la dico Ok Ma te la scrivi quando ti viene in mente una battuta? Eh, no, no, no A volte mi scrivo più che le battute alcune idee che mi vengono in mente Me le segno su Dove? Su quello che ho Però sono sempre cose che poi perdo Foglietti, block notice, le note del telefonino Infatti ogni tanto dovrei andarle a rileggere Chiaro Ci stanno delle cose che ti hai riperso forse via Sì, sì, idee per racconti che poi quando le vai a rileggere Non sai più cosa avevi in mente quando le avevi digitate O registrate in forma vocale Tant'è che molte persone che si ubriacano Io non ho questa abitudine perché sono un po' astemio Da ubriachi si lasciano degli appunti a se stessi Di idee che gli sembrano formidabili Quando sono brilli poi le vanno a risentire E non sono proprio il massimo E non sono il massimo Comunque sono molto contento come dicevo Anche perché realmente fisicamente è tanto tempo che non ci vediamo Io ricordo che, insomma, sono molto contento che Cos'è? Abbiamo detto autunno prima del covid L'autunno prima del covid Eri passato a trovarmi in radio Abbiamo fatto DJ Radio DJ come scritto sul tuo anello Tanto è una coincidenza incredibile Sì, sì, vedi, c'hai un anello che poi Pazzesco Tu ce l'hai da quando? Da quando sei bambino? No, me l'hanno dato Tipo l'anno che sono arrivato per Natale È stato fatto questo regalo a tutti noi Con l'anello Un po' stile Poi io che sono appassionato di NBA Mi faceva molto piacere Perché era un po' questa cosa dell'anello L'anello di radio DJ serve a ricordarci Che appunto noi ci conobbimo Ci conoscemmo In quel di radio DJ In una puntata Prima che esistesse il covid Anche come notizia Certo, ancora non era nulla però E ci incontriamo ora che è stato debellato Io non me la sentirei di gridarlo Ma sì, sì, debellato Non mi sentirei di gridarlo No, ci incontriamo adesso dopo che sono successo un botto di cose Perché al di là di questo Anche a livello personale, professionale Di entrambi, in particolare tu a livello di carriera È successo di tutto in questi due anni Io sono contento perché in quel periodo lì Ad esempio in cui ti avevo invitato Ancora non era successo tutto questo Però mi facevi già un sacco ridere Perché ti seguivo su Instagram Infatti quando mi avevi invitato La prima volta era Certo, vengo Invece questa seconda era tipo Devo un attimo vedere Devo dire Devo dirti la verità C'è la prima questa impressione Però in questo periodo comunque era capitato lo stesso Forse di sentirci per delle cose ogni tanto E invece mi eri sembrato sempre lo stesso Ah ok, ok No, pensavo mi dicessi invece che ti sembrava No, no Guarda Gianluca, giusto C'è qualcuno che ti ha mai detto questa cosa invece? Che ha mai avuto questa sensazione? Magari anche erroneamente? No, non credo Magari No, guarda Un paio di amici stretti Amiche strette Benedetta e Giulia Che saluto Benedetta Giordano e Giulia Strani Che sono Giulia Strani La conosco da tantissimi anni Benedetta anche da molti anni Però ogni tanto quando Stasera la pizza Con altri amici Guarda io non posso È certo Perché mo Ti fa la battuta Perché mo sei fa Però no, no Giulia lo fa per scherzo Benedetta un po' lo crede Oppure dicono Perché vai a mangiare Con quelli famosi Ma io non vado a mangiare Con quelli famosi Cioè Non si sa Che idea abbiano Che non è che frequento Cosa Pippo Baudo La sera Però ti sono capitati Mike Buongiorno Fatto un paio di aperitivi Poco prima che morisse Ma era prima che diventassi famoso Davvero questa cosa? No, no, no Mai conosciuto Mike Buongiorno E quindi no, no Non me lo dice nessuno A parte queste due amicizie strette No, no Quindi sono contento Che anche tu Non hai avuto questa sensazione Perché pensavo Mi stessi dicendo Eh Valerio però Una volta A Carponi Ci venivi A Radio DJ Adesso invece Per trovare un appuntamento Al basement No, invece sei stato Molto carino Al fottuto basement Come lo chiami te Talvolta Noi del ghetto Facciamo spesso Queste uscite Refill d'acqua Per favore Tra l'altro Dato che appunto Tra le tante cose Tra le Scattare Per favore Ricchi Non facciamo una battuta Ho chiesto l'acqua una volta Ma lui faceva così Già prima di essere famoso Cioè l'ha sempre fatta Questa cosa È tiepida Scusami a Gianluca Scusami Però si vede che alla fine Sei rimasto lo stesso L'acqua diepida Non lo so Non mi ricordo che cazzo No, no, no Ce l'ho Sì Di Radio DJ Di Radio DJ Dicevi A parte che la roba di Radio DJ Era stato bello Perché mi ricordo Perdona Mi sono un attimo un po' Mastranito sta cosa Perché capisco che la professionalità Non c'è in tutti i settori Però ci stiamo lavorando Vabbè il giovane Si farà Poi io versavo l'acqua Ai grandi registi Tra cui Mike Buongiorno Però la versavo fredda E per questo sono arrivato Dove mi vedi adesso Qua dove c'era Dove c'era Rosa Chemical Bob Bovieri No, non c'è stato Bob Bovieri Però ce lo vedrei qua Sì, è un po' da Danilo Gallinari Danilo Gallinari Io sono io Vivo di Gallinari Di Danilo No, quella puntata lì Tra l'altro fu molto divertente Perché arrivò anche Nicola Savino Che si buttò dentro La trasmissione Perché anche lui Ti seguiva E ti ammirava tanto Che poi in realtà Da lì è nata anche una connection Tra di voi È vero, è vero Perché poi facemmo assieme Il festival Dopo festival di Sanremo Quando Ed era proprio quando Stava nascendo il Covid Tutti i ricordi Della nostra vita Non hanno sempre a che fare Con questo simpatico Virus Tant'è che ricordo Che durante Il dopo festival Di Sanremo Era il Sanremo Che venne vinto Da Diodato Sì, sì, sì In quel Sanremo Mi ricordo che Nicola ebbe Una grossa febbre Spero che questa cosa Non lo metta in difficoltà E poi gli passò E venne al festival Ok A distanza di due anni e mezzo Ma vogliamo dire Che quella febbre Forse, forse Dai Forse, forse Forse, forse Non era lui Il mitico E quindi Però all'epoca Non si pensava Che quella cosa Ci avrebbe Certo Ti ricordi Quando tutti i podcast Si parlava solo del Covid Sì, che era una cosa Abbastanza pesante Effettivamente basta Sono io poi che ci torno Perché comunque È l'argomento Credo che non sia mai tornato In queste puntate Che abbiamo fatto al des No, no, lo so Sono io che ho portato Questa aura vecchia Di Di coronavirus Coronavirus Chiamiamolo Con il vero nome Con il suo nome Di battesimo No, tra le tante cose Che hai fatto in questo periodo Poi il gancio è stato Anche per incastrare Che è uscito il tuo Il tuo nuovo libro Sì, che tu hai qui Vedo Dato che stiamo Un podcast E anche immaginazione Per chi non ci stesse vedendo Non ce l'abbiamo qua In questo momento Ma possiamo tranquillamente Descriverlo Te lo devo Descrivimi la copertina Di questo libro La copertina del libro Che si chiama Foto mosse Di famiglie immobili La copertina È una foto Non mossa Non di famiglie immobili È un'altra foto Che non ha inerenza Con il titolo È una foto In realtà è un artwork Fatto da Fontanesi Artista che se non conosci Ti vado a caldeggiare Che spero di non banalizzare Il suo lavoro Lui fa due foto E le unisce Unisce il sotto di una Il sopra dell'altra E ottiene dei risultati Che nessun altro Secondo me saprebbe fare E quindi L'ho coinvolto Ho preso una sua Opera L'ho messa in copertina Ed è un palazzo Di Torino Che la parte sopra È le spalle E la testa Girata di una signora Quindi questo Al pubblico Che non vede Quindi sia quello Youtube Sia quello Spotify Perché non c'è il libro In questo caso Quindi non sta vedendo Non stiamo facendo Quello che fa spesso Striscia la notizia Esatto Che a un certo punto Mette il libro in mezzo È curioso Voglio proprio vedere Questa opera E allora Io qua suggerisco Non andate a cercare Il libro su Google Immagini Cercatelo su Amazon Sì Meglio Lo trovate anche lì Però per vederla meglio Bravo Per ingrandirlo C'è il tasto Compratelo Si chiama proprio Compratelo quel tasto È bellissimo Io credo con questa frase Ho fatto tutta la marchetta possibile Direi che ce la siamo quasi tolta Indugiare sul libro Mi sembra volgare No no Cioè tornerò In un certo punto Ti interromperò dicendo Spero abbiate comprato il libro Nel frattempo Perché poi sai Lo shopping compulsivo È quello su cui Giocano tutti col marketing Cioè il fatto che tu dici Una roba Allora io subito Devo andare Quindi è quello che Secondo me hai fatto Anche tu adesso Pensa che sempre Su questi siti online Dove si possono acquistare libri Trovi anche quello di prima mio Si chiamava Era meglio il libro Cioè uno pazzo Uno compulsivo Potrebbe prendersi Tutti e due Secondo me te lo suggerisce Anche Amazon Sì sì Te lo suggerisco anche io Ascoltatore di Gianluca Quello era andato molto bene Quello era andato molto bene Sì sì Ma appare anche questo Però D'altro era uscito in contemporanea Con il mio E io li vedevo sempre insieme E dicevo Guarda che cosa incredibile Mi ricordo bene Mi ricordo bene Tant'è che io ce li ho vicini Bravo Ce li ho sulla libro Perché io comunque Tu il tuo Senza che te lo chiedo L'ho visto Lo tieni Come se fosse Un libro d'altri Sì E invece lo tieni Io pure il mio Ce l'ho tra i libri Beh è una roba forte Anche aver fatto un po' Un libro Che te Tra qualche anno Te lo scordi Quello che hai scritto Dici che mi rileggo Già adesso devo dirti La verità Alcuni passaggi Me li sono Non scordati Però su come c'è scritto Dovrei andarmeli a rivedere E Tra l'altro quando te l'avevo mandato Avevi fatto forse La gag più divertente Legata al libro Perché poi tu hai sempre Questa cosa geniale Nel mio caso Mi aspetto che tu faccia una cosa E ne fai un'altra Il libro si è intitola scosse E tu l'hai preso in mano E hai simulato una scossa Nessuno ci aveva mai pensato Nessuno l'aveva fatto Devo dire che nessuno Ci aveva mai pensato Perché da come me l'avevi venduta Mi ero un po' dimenticato Pensavo che io lo prendevo in mano E non prendevo la scossa Perché giustamente Era solo il titolo di un libro Invece la prendevo E invece è successo Oggi non lo farei Tra l'altro il titolo Invece del libro Che adesso è inerente alle storie Perché tu racconti delle storie All'interno di questo libro Non è una tua storia Non è una classica No ci stanno Un racconto che finge Un po' di essere autobiografico Cioè sono tutti ispirati A cose che mi sono successe O che sono successe ad altri O che ho visto accadere Comunque sono ispirati Ma non è credo Che sia una cosa solo mia Però il titolo Foto mosse di famiglie immobili Non ha inerenza Io penso sempre A quei film dove O quei libri Dove a un certo punto Viene detta una frase Che è il titolo del film Esempio Anche libero va bene Quello con Kim Rossi Stewart In cui padre senza un soldo Figlio che gli chiede Voglio andare in vacanza In settimana bianca E lui si incazza E dice anche Addirittura una bestemmia E alla fine insomma Scene brutte Padre figlio Dramma familiare Film italiano di Bello Molto drammatico E si chiama Anche libero va bene Ti dici ma perché si chiama così Forse perché Che ne so Uno che è indeciso Su quale quotidiano comprare E invece poi alla fine Stanno lui e il figlio Che fanno un po' pace Il figlio gli fa Senti ma Lui fa Ma che lavoro fa Da guardare il calciatore Non la ricordo bene Ma che ruolo E lui fa Ma importa Se non libero Libero che è un ruolo E lui fa Ma sì Anche libero va bene Fine Ma davvero E quello è il titolo del film E allora ho pensato Nel libro mio Ci sta un momento In un racconto In cui dicono Ah sì a tavola Questi qua Parlavano del quello Parlavano del nuovo disco Di quello Di foto mosse Di famiglie immobili Punto Quindi quella frase Lì diventa il titolo Così Come se fosse anche libero Va bene Una frase detta In un certo punto Che però fa la sua figura Guarda come ti diventa È il titolo del libro Che fa la sua figura Quindi sono tanti Diciamo piccoli racconti Sì Piccoli Ma quel tot Che basta per renderli Non leggibili in pubblico Perché sono Un po' lunghi Cioè non sono quelle cose Da due pagine perfette Che se vuoi promuovere il libro Faccio Aspetta Gianluca Leggo un racconto Così il pubblico No è troppo impegnativo No sono un po' lunghetti Tant'è che recentemente Ne ho letto uno in tv Da Giovanni Floris Il programma Di martedì Ho visto E l'ho tagliato Cioè ho tagliato mille frasi E ho tagliato mille frasi E poi Il risultato finale Ho detto Ma potevo scriverlo direttamente così Certo Però quelle frasi Sono un omaggio Per chi poi lo compagina Vedi queste non le ha lette in tv Beh tra l'altro Tra l'altro recentemente Sei stato In diversi programmi Non mi ricordo se avevo L'hai scritto tu in un tweet Da grandi Cioè da Da adulti I programmi da adulti Sì sì Sono stato da Sono un po' questi talk show Diciamo dove magari È un altro contesto Rispetto a quello Dove ti sei esibito Dove ti Sì sì Però mi piace Sì 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 Assolutamente Ma perché comunque È la televisione Cioè quella come me la ricordo Da bambino La televisione Era una cosa Dei grandi Anche i cartoni Era comunque un oggetto Un elettrodomestico Degli adulti Quindi mi fa più effetto Andare ospite Da Serena Bortone Il pomeriggio Con Memory Migi Che non c'è più No che non c'è più In Rai In questo momento Perché ha fatto Nulla che tu Gianluca Non hai fatto più volte Lo so Che ci sono stato Mi hanno raccontato E quindi Andare in quei contesti Mi diverte Per assurdo Più che Andare nei contesti Troppo amicali Ok E tu sei un'ottima via di mezzo Perché Perché comunque Non è che noi Ci facciamo le birre Assieme la sera Ci conosciamo quel po' Che basta Per essere dignitosi Sì Invece ho fatto recentemente Un'ospitata Un podcast Di due miei amici Stretti E secondo me Sono stato Agghiacciante Perché stavo troppo Sbragato Insomma Qua Diventavo Il classico Simpatico Romano Ok Ti sei lasciato andare troppo Sì sì Infatti Secondo me Gli ho anche chiesto scusa A loro più volte Allora andava bene Il podcast Però non lo so Chissà chi sono tra l'altro Questi tuoi due amici Stretti Si chiamano Stefano Rapone E Daniele Tinti Ok E Non so se li conosci Tintoria Tintoria Certo Certo Colleghi Mi fa molto ridere Anche Stefano Rapone Avevo invitato il radio In quel periodo Però lui non è venuto No no Non è ancora capitato L'avevo invitato il radio Quel periodo In cui eri venuti tu Quando portavi fortuna Anche Michela Girò Michela Girò Venne? Sì sì Eh certo Tra l'altro Io mi bullo sempre ovviamente Di questa cosa Dicendo che chiaramente Io avevo già capito tutto Tu hai notato che Hai invitato me Sono venuto E sono diventato Il nuovo Incredibile Possiamo dirlo Fazio Beh Michela Girò È venuta E è la nuova Susi Bladi Rapone Non è venuto E chi è? Rapone No vabbè Rapone è venuto Ah è venuto È venuto il radio Rapone Allora no Non è ancora venuto Qui a Basement E invece Michela è venuta No ancora no Stiamo cercando di capire E infatti Michela Non ha fatto il passaggio Susi Bladi Patrizio Roversi E invece Rapone Lo farà Tra l'altro A proposito di passaggi Comunque Il tuo caso Anche il tuo percorso È una roba Quasi da studiare A un certo punto Perché Tu da quanto fai in realtà Questo mestiere? Questo mestiere Capiamolo No vabbè Io quando mi chiedono Che lavoro faccio Dico sempre L'autore Ok Perché è la cosa più vera Perché dire presentatore Mi sembra Però presenti alla fine Però presenti Alla fine Il programma mio Lo presento Dire comico È sempre Non lo so Mi mette sempre un po' Sull'attenti Perché quando dici Oggi abbiamo ospite un comico Già l'ascoltatore Dice già Vediamo questo qua Che cazzo vuole adesso Che è quello che dico io Ovviamente da sempre E quindi Autore di A volte di cose altrui Adesso sempre un po' meno Salvo Magari qualcosa di grave Un'altra cosa invece Dove In cui ci siamo incrociati Ma mai conosciuti Era Radio 2 Radio 2 Dove il mio programma Andava in onda Subito dopo 610 Programma mitologico Di Lillo e Greg Dove tu in realtà Lavoravi Io sì sì Tutt'ora Io continuo a scrivere Con loro E lì c'era proprio Un lavoro di scrittura Sì Allora Gran parte degli sketch Sono ideati da Greg e Lillo Negli anni Però quegli sketch Possono essere replicati Più volte Variandosi Quindi molte volte Il lavoro di scrittura Lì è C'è Nuova versione Di uno sketch Che già esiste Lo sketch prevede Che ci sia un Mago Che ogni volta Fallisce Il suo trucco di magia Uccidendo la sua assistente E io basta Che cambio il trucco di magia E il nome dell'assistente L'altro sketch Prevede che ci sia Un capo indiano Che commenta Notizie di gossip Io devo semplicemente Cambiare la notizia di gossip Quindi ci sono dei format Ed è molto compilativo È un tipo di lavoro Che è un misto Tra il creativo E il Il lavoro vero Quello che fanno I nostri genitori Non lo so che lavoro fanno Immaginando i lavori tradizionali Un lavoro vero Da persona seria E non da Sbuffone Come noi E quindi Mi piace perché c'è una parte di me Che un po' Agognava Al timbrare il cartellino Tant'è che io Quel lavoro lì Lo faccio sempre Con le sue scadenze Tipo Devo mandare una cosa La mando Scrivo al computer Invio E invece tutte le cose Che riguardano me Che sia scrivere racconti Che scrivere gli sketch O le cose per il teatro Mi prendo i miei tempi A volte divago A volte mi distraggo A volte passo da una cosa all'altra Cioè ti serve avere della disciplina Mi serve la disciplina Seriamente In quel caso lì Tu come sei arrivato ad esempio A lavorare con Lillo e Greg Cioè tu qual era stato il tuo percorso? Io Loro li conoscevo specialmente Greg Per via della musica Perché sono anni che suono con una band E giriamo intorno agli stessi circuiti Dove suonava Greg con le sue varie band Che non erano quelle con Lillo Ma erano le sue band di musica vintage E quindi là ci conoscevamo Un po' in quell'ambiente Un po' vuoi anche il mondo dei fumetti Che ci accomuna E quindi queste diverse passioni artistiche Che accomunavano me e loro Hanno fatto sì che poi negli anni Ma parlo di anni Io li conosco da quando ero veramente Poco più che adolescente Ci siamo conosciuti E già io facevo da collaboratore ai testi E partecipavo al programma di Nino Frassica Su Radio 2 E poi Greg ha detto Guarda noi dobbiamo Ci serve qualcuno in radio con noi Mi ha chiamato a me Ma stiamo parlando di cinque anni fa Qualcosa del genere E invece a Nino Frassica? Nino Frassica vedeva dei video miei su Facebook Video che io facevo così Col cellulare Li montavo Ma con una qualità pessima Però mi divertivo a farli Duravano cinque minuti E lui se li vedeva Gli piacevano E mi ha chiamato Ma dai che figata è questa E comunque Mi sembra Credi anche perché Insomma adesso io non credo Non so se esistono le categorie o meno Però la tua linea umoristica È molto nella direzione Delle cose in cui hai lavorato ovviamente Sì sì Ma si è formata anche grazie a quello Ma indubbiamente sì Ma infatti secondo me in questo ambiente Parlo di ambiente Ma non è un ambiente tipo È un po' una comunità invisibile di persone A cui piace un determinato genere Che è un po' il surreale Il nonsense Il Boh Si sentono un po' vicini Cioè come Si danno di gomito Ci si riconosce A noi ci piace fare queste cose qua Piuttosto che altre E quindi questo fa sì Che poi Il mondo Frassica Il mondo Lillo e Greg In qualche modo Si è accomunato Per quanto Non è che collaborino Costantemente assieme Seppur facciano delle cose insieme Sono comunque Io li ho sempre visti Come parte di una grande famiglia Che poi si dirama Anche ad altri nomi Qualcuno minore Qualcuno più alto Ma io ci metto In mezzo anche Renato Pozzetto Che Cioè Come Non mi sto equiparando Sto dicendo che è quel mondo A cui piace un po' Il Il Non Il non Immediato Ok Poi Pozzetto è un maestro Perché riusciva a essere Anche invece immediatissimo Se lui faceva entrambe Le cose E gli hanno permesso poi Di arrivare A tutti Lui infatti venne A Basement No Non ancora No Allora forse non è vera sta cosa Che dici te In alcuni casi Però secondo me Per chiudere davvero Poi la sua carriera Deve Deve passare Per chiuderla bene Per non fare Perché tu Quando mi hai aperto la porta Prima di qua Che hai detto Io sono il remida Degli artisti italiani Non mi sarei mai permesso Di dire Tu mi hai detto Sta cosa Il ragazzo Che mi ha portato l'acqua Ha fatto una gesto Tipo Sì comunque Te l'ho detta in privato No no Io ho sentito Per umiltà Per umiltà Avrei preferito Che tu Acqua Che tu non dicessi niente Però La prima volta In realtà Che io ti ho visto E che poi Mi hai incuriosito E ho iniziato A seguirti sui social Grazie Spero che tu L'abbia raffreddata Ricchi l'acqua adesso Non vorrei un'altra polemica Sull'acquatier Com'è? Ci siamo Ci siamo Meno male Era A battute Che è un programma Che io ho adorato molto Mi ha fatto molto Mi ha fatto molto ridere Gignare Molto Però era un programma Strano Cioè io lo capivo Perché A me Quell'umorismo Fa molto ridere Quello Dipende Perché poi in realtà Erano Tanti diversi Tanti diversi Anche tanti Molto più divertenti Di quanto Emergesse in quel programma Perché si era un po' Creata quella dinamica Appunto delle battute Che io non amo molto Le battute Nonostante questo suono Mi piaccia molto Vai Io non le capivo Perché ho capito Che la metà delle battute Finivano con la parola PD Ok Sia se erano Perché era un modo Non seguendo la politica Ho capito che il PD Funziona sempre Sì è una roba Che puoi usare Perché è una cosa Quelli di sinistra Parlo veramente da Non voglio adesso Crearti i commenti È una stessa La politica Però a quelli di sinistra Gli fa vita e scherzare Sul PD perché È un po' Paperino Il PD Mannaggia a loro Noi invece Siamo De sinistra Quelli di destra Degono Il PD Fate cagà E quelli del PD Fanno Mannaggia Noi siamo proprio del PD Quindi Avevo capito Che c'era questa dinamica In cui tutti Essendo una puntata al giorno Facevano queste battute Sul PD Spesso che neanche apprezzavano Loro stessi Mo dico PD Ma per dire La battuta Un po' forzata La battuta twitterosa Sì E secondo me Quella roba lì Un po' Io stavo un po' male Quando le sentivo Però Stavano male Tu facevi una cosa Completamente diversa Da tutti Io fortunatamente Quando avevi la tu Mi ricordo Mi aveva colpito Il fatto che suonassi Uno strumento Molto bene Sì perché c'era Giovanni Benincasa Che era il capo Progetto del programma Ha detto Tu mettiti una Una pianola Una tastiera E io ho detto Ma siamo sicuri Sì sì Ha fatto tagliare il tavolo A ciò che io avessi Stato a stiera Ogni tanto la suonavo Ma Non è che facessi Proprio Bragardi Stavo là Più che altro Ogni tanto facevo Dei suoni Che un po' Supplivano La mancanza Di Quindi dopo le battute Facevo Ed era una roba strana Però vabbè Però funzionato Però guarda Me ne parlano bene Tante persone Sì ma funziona Però era una cosa strana Cioè quello Ho anche un po' Segnato un po' La wave nuova Anche di comicità E di comici Nella televisione Perché hai iniziato A parlare di Con persone Che io in realtà Già conoscevo Comunque da tempo Perché magari Avevano una realtà Parallela Sia dal vivo Che magari sui social E gli ha dato Visibilità In televisione Che era una cosa Che invece Non veniva ancora Fatta Perché la tv Era ancora ancorata Al classico comico Come siamo immaginati A pensarlo Sì sì Ma c'erano tante persone C'erano veramente tanti Perché è un tavolo enorme Quindi non me li ricordo tutti Però sì sì Ma poi giravano Poi cambiavano Anche Rapone C'era Stefano Rapone C'era Emanuele Afanelli C'era Carmine Del Grosso Francesco Mileto Anche Carmine certo Pieno di persone E sono più quelli Che non c'erano No è chiaro E poi ognuno di voi Sono meno quelli No però Ognuno di voi Poi ha fatto delle cose Tu come hai conosciuto Giovanni Ben in casa Da quello che mi dice lui Gli è stato fatto il mio nome Da Calcutta Cioè direttamente dalla città No no Da Calcutta Pensavo da madre Teresa No no Dal cantante Calcutta Perché lui Credo che Giovanni Voleva fare questo programma Ha detto Conosci qualcuno Non so perché si fosse rivolto A Calcutta Vabbè Lui si conosce con Calcutta E Calcutta ha detto No devi chiamare Londini Questa è la mia imitazione Di Calcutta Molto bella No devi chiamare Londini No l'ho fatto meglio la prima volta Campiona la versione audio Della prima E mettila la seconda volta Tagliando questa mia postilla Grazie E quindi pare che Calcutta E perché Calcutta Aveva ben presente Chi fossi Perché ci conosciamo con Calcutta Perché io suono Io dovevo essere pianista di Calcutta Ma va Questa è uno scoop Lo scoop Ne frega niente a nessuno Però magari c'è il malato Che dice No un po' capì E io dovevo essere pianista di Calcutta Perché quando lui aveva fatto uscire L'album Evergreen Sì Noi facemmo delle prove assieme E io dovevo fare le date con lui Ma va In qualità di pianista Poi non si fece più Perché le prime tre date Che lui doveva fare Io ero già impegnato Con la band Con la tua Con la mia E poi può essere anche Che non ero Io non credo di essere un pianista In grado di fare da turnista Per qualcuno A parte perché Cioè So suonare Ma comunque mi diverto più A suonare E Cazzeggiare con la band Cioè magari c'è gente Più brava A suonare il piano Ma che però non sa fare Non ha quel vezzo Invece artistico Sì sì Ma io mi Cioè come dire A te ti diverti A fare un podcast Ok adesso il tuo podcast È leggere i libri Di Niccolò Ammaniti Davanti a un microacerici Un attimino Più pesante Per quanto a me Calcutta piace tantissimo Tutte le cose che ha fatto Però forse non sono Sì sì a me piace molto No no Ma dai che è successo tutto questo Ah ok Ma te A me ci fa cagare a tutti No no Calcutta No no E quindi Belli pezzi Bello suonarli Ma forse non sono Un turnista Uno che si può mettere là Penso che se ne sia accorta Anche la band Del caro Calcutta E quindi E quindi è finita lì purtroppo Sì Facciamo delle cose No no Io dico per fortuna Io non la vedo come una cosa Che Anzi No no Ma pensa essere il pianista Sì Di una band Cioè No Poi io mi annoierei Dipende Ognuno ha la sua Insomma vocazione C'è che magari chi non ha Quel vezzo appunto artistico Preferisce fare una roba Molto più Blindata Sì sì E quindi da lì Begni in casa Ha il tuo nome da Calcutta Ti contatta Mi ha contattato Per fare questo programma E io gli dissi Va bene Perché io dovevo essere Cioè ero anche coautore Del programma Nonostante Penso Però a conti fatti Scrivevo solo le cose Le cose che facevo io Non scrivevo le cose degli altri Ricordo una volta Rapone Scrisse una frase mia Io scrissi una frase sua Cioè avevamo fatto Questo lavoro di coautoraggio E ha funzionato Sì 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 Come i rapper fatti Come i rapper E che altro No e poi quindi Lavorai a questo progetto Ma tu già facevi Dei live Cose dal libro Io live sì sì Già li facevo Già li facevo Sì sì Non ricordo No no Sì sì Li facevo Tu eri venuto No Tu non riuscesti mai No perché ero in diretta È vero Tu c'hai sempre le dirette Maledizione Ero in diretta Io venni da te Non qua Ma a Radio DJ Per promuovere Lo spettacolo a Milano Di qualche anno fa Che però già Era uno spettacolo Che stava già andando Molto bene Perché eri già iniziato Avevano iniziato già A seguirti i VIP Avevo visto E quindi faceva molto figo In quel momento Perché poi sei Te ne sarai accorto anche tu Che poi magari ci sono Quelli ovviamente fedeli O fidelizzati Poi però a un certo punto Diventi uno Per cui è figo Anche dire Che segui quel tipo Dove ci porti la ragazza O stasera ti porto a vedere No fa figo nella società Diciamo Quello sì Nel jet set E questo finirà Capisci No cioè Perché è tipo No ma io lo seguo Quando faceva i club Adesso Deve diventare Non sei più mainstream Bisognerebbe inventare Dei posti ancora più grandi Tipo gli stadi Certo Dove fare degli spettacoli teatrali E dire Tra tre anni Farò uno spettacolo Farò cinque date a San Siro Tra tre anni Nel frattempo Farò cinque date All'Arcimboldi Adesso Come ai vecchi tempi Così la gente dice Andiamocelo a vedere All'Arcimboldi Noi Noi quattro È un modo per fare i sold out Cioè inventarti Che tra dieci anni Fai dei palazzi giganti Così la gente Dice Ah beh Cosa sa che c'è Può funzionare Approfitto di queste ultime cose Un po' intime che fa È un'altra botta Di come chi poi Fai l'unplugged Nel teatro Esatto Quindi poi Quando fai gli stadi Devi dire Tra due anni Faremo il nostro concerto In Asia Occupando l'intera Asia Ma adesso Ma adesso Per voi Che ci seguite da sempre Abbiamo messo cinque date Al San Siro Devi sempre spararla più grossa Credo ti farò così E dopo che tu Lo farò veramente Dopo che hai fatto battute lì Secondo te Ben in casa Cosa ha fatto Giovanni Sei accorto che tu funzionavi Ed è nato il progetto No c'è stato il covid E il covid ha fatto sì Un po' mi vergogno A dire questa cosa Che ha fatto sì Che quel programma là Non si potesse più rifare Perché c'era troppa gente E quindi Possibilità di Contagi E quindi Giovanni Mi ha proposto Ma vuoi proporre Un programma Vogliamo proporre Un programma tuo Alla Rai Ha fatto Ma mio Tipo solo mio Sì E vabbè Facciamolo Va bene E così è stato E poi si è fatto Cosa a me sembrava strana Ma tu avevi già in mente Il concept della pezzi Cioè io ho trovato geniale Il modo in cui anche Ti sei approcciato Che un po' è in punta di piedi Perché fai quello Che va a sostituire Il programma immaginario Quell'idea lì In realtà è durata Due puntate Perché poi Non l'abbiamo mai più mantenuta Ma era tipo Hanno detto Facciamo una cosa Che sembra che Che sei lì per caso Che io sostituisco la cosa Con Emanuele Afanelli Che presenta il programma Che non c'è più E quello che ci sarà Cioè una pezza di Lundini Ma Ma poi alla fine Era più un pretesto Per creare Un mondo Un mondo di cose E no ti dico Non è stato troppo difficile Immaginarmi il programma Anche perché Sinceramente Non ha una struttura Non è che è un programma Di calcio In cui si parla Della partita C'è il commento E poi c'è L'amo viola No è un programma Dove c'è tutto C'è l'intervista al cantante Ma può essere l'intervista Al politico Al geologo C'è il momento musicale C'è il momento con Emanuela Ci stanno quelli del pubblico Quindi È un po' Come un magazine Di cose Sì E questo fa anche sì Che sia difficile Inventare un nuovo programma Perché sembra Era sempre uno spin off Di questo Di quello Perché se fai un programma Solo interviste Già c'era Solo musica Con la band Di canzonista Già c'era E quindi Però non è un problema No anzi E Emanuela è venuta con te subito Sì 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 Giovanni ha detto Fatelo insieme E sono stato super contento Però ti dico Mi ricordo che quando Ci fu questa idea Di fare il programma Non è che avevo fatti Avevo messo in mezzo Tutti i sketch Che avevo in testa Da tanto Che non potevo realizzare Perché serviva Un minimo di produzione Ma proprio Un minimo significa 200 euro Ok Però non è che mi sono mai messo A autoprodurmi gli sketch Faccio cose col cellulare Che potevo realizzare da solo Ma già che mi servivano Comparse Vestiti Così Dicevo vabbè Un giorno li farò Quindi tutto quel materiale Di idee che avevo L'ho buttato dentro E poi mi sono messo Tranquillamente a scrivere cose nuove Ricordo che la prima cosa Che scrissi Per il programma La pezza di Undini Andò in onda poi Alla Ventesima puntata Che era io che dicevo E adesso Lezioni di spagnolo Flash E c'era Uno in spagnolo Che diceva La homosexualidad Fine Fine E questa cosa poi Tornava Torniamo alle nostre lezioni di spagnolo E c'era lui che diceva sempre La homosexualidad E lo interpretava Valerio Desirò E non so perché Ho detto questa cosa Mi diverso Questa è la prima cosa Che hai scritto per la pezza La prima cosa che mi era venuta in mente Per la pezza Era Lezioni di spagnolo Flash Un signore Io lo volevo con i baffi Un po' Un po' sudato Con un po' di camicia aperta Un po' seduttore Che diceva La homosexualidad E non so perché Mi faceva ridere questa cosa Spero All'inizio come venivano prese le tue idee Tipo adesso è un momento Che succede poi a un certo punto Della carriera Per cui in realtà Tu qualsiasi cosa Possa di non so se ti è capitata Questa roba Cosa? E che qualsiasi cosa Tu dica oggi È genio Genio Ma quello è un problema Perché non è vero Secondo me adesso È anche un po' una presa in giro Perché mi ricordo Sta cosa Pure quando Prima del programma Qualunque cavolata Ma non solo io E chiunque scrivesse Cose buffe Su internet C'era sempre genio Genio Anche cose agghiaccianti Cioè recentemente Ho letto di una suora Che è diventata Non più suora Certo E la gente sotto Che fa battute tipo Ha scoperto un'altra cappetta Bella E sotto tutti Genio Ragazzi no Non è genio Quello È simpatico Vogliamo dire Ma neanche Oppure Tutte battute Così Agghiaccianti Agghiaccianti E sotto c'è sempre Genio Quindi il genio è molto soggettivo No il genio è semplicemente Questa cosa che hai detto Mi ha fatto sorridere Quindi il genio Quindi Lavorando su cose Fondamentalmente ironiche Mi ritrovo il genio sotto Ma secondo me I genio fanno male Fanno male perché Tutti quelli che Vedono una tua cosa E leggono sotto Dieci persone Che scrivono genio Secondo me molti Ci hanno proprio l'istinto A dire Ma perché Ma va Arrivato il genio E sembra quasi che Quel tuo pubblico Sia un po' una clac Un po' un gruppo di persone Che ti dicono genio Sai quando eri bambino E le tue compagnie di classe Ascoltavano una boy band E tu Per i picca Dicevi Quelli mi fanno schifo E questi genio Quelli che scrivono genio Sono un po' Le compagne di classe Del paese Beh questo succede Quando poi uno diventa Estremamente grande Nel tuo confronto In realtà io questo Non lo Non la percepisco Se tu mi vuoi dire genio Ogni tanto magari Mandami un sms Mi dici Valerio genio Però magari sul commento Fai Bravo Bravo Sì Un po' più moderato Sì sì Carina questa Carina questa Ne avevamo già parlato Così facciamo anche vedere C'è tutto un brainstorming No no però il genio È un po' E però all'inizio In realtà Arrivavi nuovo Nessuno ti conosceva Anche tra Nel gruppo di lavoro Forse non lo so Cioè come venivano prese Le tue Le tue uscite Che erano Poi effettivamente In molti casi geniali O comunque semplicemente Diversi da quello Che veniva portato In quel momento Guarda io sono stato Non so se sono stato fortunato io Oppure ho avuto io E gli altri Un approccio al lavoro diverso Però Non ho avuto particolari Ostacoli Ostacoli Però su questo Devo dire Grazie a Giovanni Benincasa Che Essendo comunque una persona Con qualche anno di più Che Giovanni Benincasa Premessa Esatto È un Vabbè È molto molto bravo Da tanti anni Ha fatto delle cose Cioè molte delle cose belle Che ha visto O divertenti Che avete visto in televisione Negli anni C'è il suo cappello C'è dietro lui E quindi Ben o male Io se magari dicevo Per questo sketch mi serve Un nano malefico Che dica questa frase Da dietro una sedia E dice guarda Il nano malefico Non lo troviamo Costa 500 euro Cosa vera Forse non devo parlare di budget Comunque Chiamare il nano malefico Non era malefico Era un attore Però con lo sguardo malefico E io Di mia natura Avrei fatto Ah vabbè Allora 500 euro So comunque 500 euro So un milione Delle vecchie lire Invece Giovanni faceva No no Troviamolo E quindi avere lui Che comunque La Rai Le produzioni Si fidavano un po' di più Quindi non è matto C'è Giovanni Chi garantisce per lui Sì sì E questo anche Saluto Roberta Bellagamba Che era la curatrice Rai Che era una persona illuminata Cioè Renditi conto L'egocentrismo Per me Illuminata è una persona Che approva le cose che faccio Se avesse detto No Valerio Questa cosa non mi piace Non era illuminata Era spenta Quindi Roberta Bellagamba Che era la curatrice Rai Era quella la cui mansione Era dire Ragazzi Non dite marchi Di cose Non bestemmiate E evitate Di prendere a cazzotti Un bambino In trasmissione Siccome noi non abbiamo fatto Quasi nessuna di queste cose Tutto il resto Lei capiva Che era Sempre A fin di bene Certo E ci ha lasciato fare Anche un paio di cose Che secondo me Erano un po' Sì sì Qual è quella Secondo te più borderline Guarda Non è borderline Allora c'era Uno sketch Sulla violenza sulle donne Sì Che io stesso Ho detto L'ho girato Dovrebbe esserci Da qualche parte Montato In qualche hard disk Però poi ho detto Ma vogliamo lasciar perdere Perché Ti sembrava troppo No perché Era chiaro Quello che diceva Però Era un po' Fifone Ho pensato E se poi viene capito male Era una di quelle cose Per le quali Tante delle cose Che faccio Possono essere capite male Però non mi interessa E compito Cioè Non è che devo spiegare le cose Però questa cosa qui Io posso Questo sketch Io potevo spiegare Cosa significava Ma Era complesso farlo Cioè Se lo capivi Lo capivi E ti piaceva Se non lo capivi Potevi non essere tenuto A capirlo Cioè Era Era basato Adesso senza che lo spiego Era basato sulla cosa Del Sono caduta Dalle scale Mentre in realtà Come copertura È tuo marito Che ti ha raggonfiato E c'era tutta una cosa Che succedeva Che era vero Delle scale Però era vero Insomma Era tutto un ribaltamento Di cose Lei ha detto No per me può andare in onda Perché lei lo capiva Tutti L'hanno capito Io ho detto Ragazzi Io comunque Forse oggi Oggi forse lo farei Perché c'ho il patentino Adesso è bravo C'hai un po' di patentino Però all'epoca Ho pensato Non mi va di Cioè Non voglio neanche Sembrare un provocatore Uno che dice Adesso faccio sta cosa matta Sulla violenza Anche perché io ho picchiato Diverse ragazze Sì sì Ma tutte molto più grosse Di me Sicuramente c'era stata una ragione Mia figlia Eccetera Comunque La cosa Che poi è successa Clamorosa Anche nel tuo caso Che poi ha dato Il successo a tutto È che poi è diventato Un fenomeno online Cioè Tutto quello Che è successo lì Era per un pubblico Che non guardava In realtà In quel momento La televisione Sì sì Il tuo programma Aveva una vita Sua Nella vita vera Che era sui social Sì è vero Molte cose poi Sfuggivano dalla tv Ma anche Per fortuna Perché se no Secondo me Oggi Deve essere importante Cioè io La mia teoria Tra virgolette È Se una cosa Non succede anche Se tu fai una cosa In televisione Ma non succede anche Su internet Non è successo Cioè tante cose Tranne i programmi Quelli top E la maggior parte Se no Non È vero Sì sì No infatti è un po' Un peccato Perché In generale Tante cose Magari Uno le fa E se non finiscono Su internet Hai la sensazione Di aver buttato Il tempo Però per anni La tv è stata così Andava in onda Una sera Ci spendevano Tutti i soldi Del mondo Facevano uno show Però tutti la guardavano In quel momento Non c'era la cosa Non c'era la cosa Del me la recupero domani No Cioè Matteo Tiberio Un mio amico Che ha inventato Lo slogan per Rayplay Non so se dirlo Ad alta voce Perché lui magari Lo vuole vendere Che è Sti cazzi Tanto me lo guardo Su Rayplay Secondo me è un bellissimo slogan È un ottimo Se ci ascoltano Gli amici di Rayplay Sto dicendo troppe parolacce Gianluca No no Rayplay si può dire Rasa Chemical Ne aveva detta Almeno una in più di me No non lo so È uno che dice parolacce No però Fintati Quella puntata lì Ha detto delle robe Molto più forti Ho capito Ho capito Quindi quest'ultimo Romanismo Di sti cazzi Me lo sono potuto giocare bene Chiaro E quindi no no Si è andato bene Sui social Infatti la terza stagione Sì Dal momento che La Ray ha messo Delle restrizioni Quindi io non potevo Uploadare Degli sketch Sui social Se no me li toglievano Secondo me Un sacco di cose Si sono perse Si sono perse Quindi qui Amici Se avete già comprato il libro E quello vecchio L'avete fatto Ok vi aspetto Ok andate su Rayplay Vedetevi la terza stagione Perché se no me c'ha delle cose Però è vero Questa cosa è incredibile Che non si capisca Perché poi è tutta promozione Per il programma stesso E per poi andarsela a vedere Su Rayplay Cioè il fatto che tu Sia diventato in alcuni casi Alcune delle cose che hai fatto Non tu come essere umano Un meme Cioè che alcune cose Sono diventate dei meme Ci sono diventate delle cose Che veramente sono Nella vita delle persone È tutta È tutta pubblicità E invece c'è ancora Quell'idea Del dover avere Quel contenuto lì Per forza Perché Per monetizzarci Per fare tutta una serie Però se ci pensi È strano perché Non pensi la stessa cosa Con Netflix E Amazon Cioè se La serie La serie di Zero Calcare Cioè non credo Che Zero Calcare Prende e mette su Instagram Quattro minuti di puntata No chiaro No Beh però è proprio diverso Dalla tipologia di prodotto Quindi Sì è vero Però qualcosa Finita lo stesso Perché Nel caso di Zero Calcare Tutte le frasi O le battute Che faceva l'armadillo Quello sì Sono finite comunque Sui social Quindi magari Non quattro minuti di pezzo Ma qualcosino Che poi Tutta la sei visto E hai detto Ma sai che io Me la vado a vedere Me la vado a vedere Tutta su Netflix Perché poi Non hai delle altre Certo No poi comunque Il discorso è che Mentre il programma mio Era clippabile Quindi potevo prendere L'intervista A Alessandro Borghi E metterla online E la serie di Zero Calcare E metti una scena Di una serie E distruggi la narrazione L'altra cosa Che mi sono chiesto Quando fai le interviste Con gli ospiti Tu li briefi prima Come funziona In alcuni casi sì In alcuni casi Ad esempio Max Pezzali Sì Quella che facevamo io e lui Era una sorta di Di sketch In cui ognuno Diceva una cosa E l'altro rispondeva Puntualmente Con una cosa Era tutta Agganciata Quindi c'era una sceneggiatura Dietro Quindi quelle sono briefate Perché sono Più delle Uso un termine antico Delle recite Cioè Tra noi succedeva questo Quella con Bugo Era tipo una caccia al tesoro In cui ogni cosa Che dicevo io Erano delle coordinate Quindi E quindi io dicevo Pagina 30 Del terzo libro Di Harry Potter Lui rispondeva dicendo Tweet Di Elodie Di giovedì scorso Delle 5 Io rispondevo dicendo Frase detta Da Nicola Savino E poi andandoti a cercare Tutte queste cose Ricostruivi L'intervista vera E questa roba Chiaramente Non è che è briefata Di più Cioè scrittura Beh certo Perché devi Però ci sono tante volte Le reazioni alle cose surreali Che tu dici Erano spontanee Sì sì Molte sì Sono spontanee Molte sì Altre E comunque l'altra cosa incredibile Che ormai ne hai fatto un botto Di puntate E non ti sei mai ripetuto Cioè non vi siete mai ripetuti E questo è il motivo Per cui non c'è la quarta stagione Perché sono finite le possibilità No in realtà Credo che tu ne abbia Tante ancora in testa Però quella cosa è incredibile Qual è quella che secondo te è riuscito meglio di tutte? Ma ti direi Max Pezzali Bugo Queste che ho citato No poi in realtà Saviano Forse Molto vero I Mane Skin Anche perché poi C'è poco da fare Quando Per assurdo I Mane Skin Sono giovanissimi Cioè no per assurdo Sono molto più giovani di me Quindi Non c'è quel Quel distacco Però funzionano bene Quando ci sono Due persone Anagraficamente Molto lontane Cioè quindi Io che intervisto Una persona Molto più grande Anche Però anche Di un altro mondo Quindi Carlo Cottarelli Cioè c'è C'è un po' più di sollennità Nell'ospite Anche perché L'ospite fa cose Che nessuno si aspetta In quel momento Da una figura Se invece fossi Io con Appunto un mio amico O un mio coetaneo O una persona Del mio mondo Secondo me funzionano Meno bene Cioè funziona il fatto Che siano fuori contesto Secondo me sì Probabilmente sì Però poi Beh Quindi insomma Queste sono quelle Che ti hanno Ma sì Poi vedendone altre Mi era piaciuta Quella con Borghi Che hai citato prima Quella con Alessandro Borghi Anche quella con Maccio Che era difficile Fare una cosa con Maccio Perché comunque Luce al suo mondo Luce al mio Siamo riusciti comunque A fare questa cosa Nata da un'idea Dal Io Io Mi misuro la glicemia Da un'app Che mi fa vedere Questo grafico E mi dice Qua è alta Qui è bassa Quindi si crea Una specie di Come lo definiresti Questo per chi non vede Un picco E quindi questi grafici Della glicemia Formano delle immagini Che a volte sembrano Delle montagne A volte sembrano Zoomati Sembrano dei profili umani Allora io mi sono immaginato Pensa uno che modifica La sua glicemia Il suo tasso di zuccheri Per formare Un'opera d'arte Di persone che conosce E con Maccio Abbiamo fatto questa cosa Come quelli che vanno in giro Per la città A disegnare sulla macchina Che da Google Maps Poi sembrano un disegno Sì sì E quelle cose mi affascinano Allora la volevo girare Con un attore X Che io andavo a visitare Uno che con la glicemia O con la pressione Faceva dei ritratti Facendosi del male fisico Poi non l'ho più girato L'ho fatto con Maccio È stato Secondo me magistrale Perché poi ci ha messo il suo Ci ha messo quelle Quelle cazzo di urla Che faceva Che io purtroppo non A me quelle cose La fanno ridere tantissimo È il suo Ma gli ospiti ti hanno detto Sempre sì da subito? Alle cose che proponevo Alle cose che proponevi E ad essere invitati Al programma No probabilmente c'è stato qualcuno Che non è venuto Ma perché non poteva No ma magari all'inizio Uno Un ospite Cioè non è facile Quella cosa di trovare Cioè comunque da te È venuta C'era un'attrice Personaggi molto importanti No c'era un'attrice A cui proposi Di fare una cosa Che poi ha fatto Ma la prima proposta Era Vedere le immagini Del suo cane Che non c'è più Perché avevo visto Un'intervista televisiva Non so quale personaggio televisivo Le facevano vedere Penso di poterlo dire Benedetta Rossi Che è venuta ospite Lei È venuta anche qui Sì sì No lei è simpaticissima E lei aveva un cane Questo cane Ahimè Certo È morto E una volta la vidi ospite In un programma Dove le disse Abbiamo saputo che è morto il tuo cane Guardiamo assieme le foto del tuo cane Mettevano tutte le foto De sto poro cane Con sotto una musica Sì classica Queste foto non finivano più Cioè continuava Foto di cane 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 Alcune le hanno fatte Con l'intelligenza artificiale Perché aveva finito le foto del cane Allora mi piaceva replicare questa cosa Non con Benedetta Rossi Ma con un'altra attrice E ho detto Senti ma se io facessi vedere Le foto del tuo cane Che hai perso Ipotizzando Che tu hai perso un cane E te le facessi vedere In loop Finché tu non E se Finché te non piangi Io continuo a mandarle Proprio perché io Ho quell'obiettivo là Per prendere anche un po' in giro E lei mi ha detto No guarda perché Una delle mie più cari amiche È da poco morto il cane Ma tu ti rendi conto Beh Dire di no A entrare nella storia di V Perché Manco per la tua amica È morta Sai è morta un'amica Certo È morto il cane di una tua amica E tu rinunci E tu rinunci alla storia E tu rinunci alla storia Il video più visto Più visto Su YouTube E su Rayplay Sì Su Rayplay soprattutto Beh però Adesso mandiamo un abbraccio A questo cane Certo Che ci segue dalla super Per eroina peraltro Questa è la cosa Che mi ha distrutto Mamma mia E Veramente E Quindi gli ospiti All'inizio comunque dicevano Sì veniamo Ci mettiamo in gioco Sì Poi il programma Ha avuto successo E quindi era Era status venire No Infatti anche Altro motivo Per cui la quarta stagione Non ci deve essere Sì sì Non deve diventare una passerella Deve diventare lavoro Deve essere lavoro No no Sì sì è vero Forse un po' c'è stata questa cosa Però croce delizia Cioè Da una parte C'hai tante proposte Da una parte È anche vero che Molte persone Dici Sì io ti inviterei volentieri Ma che mi invento con te Cioè è quello Perché non tutti sono Sì 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 Adattabili Per assurdo Appunto Amici Persone con cui magari Ti trovi bene Oppure Persone che conosci Così Sono in realtà più difficili Di quelli che proprio Non sai chi sono Cioè io Mi sono trovato bene Con Bruno Giordano Ex calciatore della Lazio Non sapevo chi fosse Ma non me ne vorrà Non seguo il calcio Non se Lui secondo me Ospite spettacolare Perché il mio Non sapere niente di calcio Mi ha fatto fare le domande Più vere Beh è vero Sì 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 Quindi quella cosa Ha aiutato E Di tutte le cose Che poi sono anche venute fuori Io dicevo Sono venuti fuori dei memo Comunque i social Tu i social li guardi Vedevi quello che succedeva Sì sì qualcosa Ce n'è uno che ti piace O uno che invece Non ne puoi più di vederlo Perché Cioè sei classico Quando c'è il tuo tormentone Che tu non hai un tormentone Ah delle cose mie Delle cose tue Che sono sui social Che sono online Cioè c'è una roba Beh io c'è quello là Che c'è quello che io Non nasceva come tormentone Io feci un video Di Uber strada Che chiedo alle persone Che cosa era successo Un giorno che la Roma Aveva vinto una partita E tu mi hai detto C'hai l'audio qua No qua non lo uso in radio No ok in radio E chiedo a sta signora Cosa ha fatto la Roma Lei mi dice Ha vinto Quanto ha vinto 1 a 0 Manco lo sapeva Ha chiesto alla figlia E io ho detto Ah vabbè Stavo urlando Perché E io le ho detto Va bene lo stesso E suono il claxon Bevo Dico forza Roma Ma questo nasceva Perché io quella sera Ho detto Oggi è un giorno In cui è lecito Strillare e suonare il claxon In un qualunque altro giorno Dell'anno In una qualsiasi altra città Se tu suoni il claxon Sei un pazzo E strilli Sei un pazzo A finire sul TG regionale E invece Se vince la Roma Tu puoi urlare Suonare il claxon Io tornavo Dalle prove con la band Ho visto la città In delirio E io ho detto Tu ti rendi conto Che se io Tra quattro settimane Mi metto a fare Così Mi ferma la polizia E io gli posso spiegare Guardi È che ha appena vinto A chi volesse milionario Una signora Che mi stava simpaticissima E volevo festeggiare E quello mi segua Se invece dice No è a Roma Abita a Roma E allora dice No prego prego Passi Anche se lui è della Lazio Prego prego La capisco E allora ho detto Basta adesso Comincio a suonare Cominciavo a suonare Sperando che qualcuno Di quelli che urlava Mi trovasse inopportuno Quindi ho cominciato A urlare così E la mia fidanzata Mi ha fatto il video Con il telefono Io ho un telefono Molto moderno Che fa anche i video Come una telecamera È appena uscito Sì sì La Nokia Movissimo E questo video Anciutunto è diventato Virale È diventato virale Fammelo dire Fammelo dire È diventato per l'appunto Virale Tu quando ti sei Accorto invece Lungo il percorso Che stava funzionando La tua Quello che stavi facendo Ma tutte queste Queste chicche Di internet Nel senso Questi qua Dei tormentoni Un po' Più che altro Perché poi Fanno Fanno dei Fanno dei contenuti web Con la faccia mia E sotto c'è scritto Va bene lo stesso Come se io fossi un brand Che dice Cioè come se io fossi uno Che va in giro Per paesi A dire ragazzi Sono quello là Tipo Bart Quando dice Non sono stato io In un episodio Dei Simpsons Una serie americana Animata Però no Vanno bene Io me ne accorsi Quando uscì il programma E giravano delle Immaginette A parte quelle divertenti Che rievocavano Ma tipo che so Coppia di fidanzati Il meme Con i due fidanzati Che si tengono per mano Oppure che stanno a letto insieme E c'è il televisore Col programma mio Che sembrano le cose Che fai tu da solo Per promuovere Le tue cose Sembrano quasi quelle cose Un po' tristiche Un po' cringe Che fai te da solo Oppure che ne so Tipo fidanzata nuda E ragazzo distratto Perché sta guardando me E ho detto Spero che sia chiaro Queste cose Non le faccio io I primi giorni Ho detto Sembrano cose Che fai fare alla produzione Quelle case di produzione Che spingono un progetto E fanno questi meme terribili Tipo Con la descrizione Con quello che ride Con le lacrime Cioè che si capisce Che è una bumerata Sì sì Invece l'avevano fatti Delle persone Però quello è bellissimo Cioè quando tu vedi Che uno spontaneamente Perché poi nel tuo caso Si è creato proprio una Come dire Una clac Che tu hai citato prima Cioè comunque le persone Hanno Insomma Si sono Nate delle pagine Che riprendono le tue cose Eccetera Quindi si è creato Non so come gli vada No vanno bene Girano bene Sì no ma proprio Come gli va a loro Cioè è un lavoro Sbamite Prendere la puntata Tagliarla Sistemarla È un grandissimo lavoro Ti hai mai capito Che qualcuno invece Venisse da te Col telefono Mi fai per favore Va bene lo stesso Per un mio cugino Che sta Ci sono successe queste cose Allora Mi succede Ma Fortunatamente mai Con la richiesta Di dire una frase In particolare No una volta Mi hanno detto Puoi dire Un paio di cose così Che avevo detto In un programma Però Lì un po' Un po' Mi rifiuto Ma perché non ce la fa Cioè se no poi diventa Potresti dire Viva Hitler Chiaro Che poi è capitato Qualcuno l'ha detto Un paio di volte l'ho detto Ma per i compleanni Sai queste cose così No no però Una volta No mi chiedi Allora io ti dico Sinceramente Non amo la richiesta Del video Lo dico Ufficialmente Ufficialmente La richiesta Puoi fare un video Per un amico mio Perché mi imbarazza A dire ciao Cos'è Però Però capita Lo fai Certo E invece ti è capitato Ovviamente Però mi capita Che mi fermano Dicendomi quelle frasi lì E sai una cosa Mi succede più a Milano Che a Roma Davvero? Ebbene sì È incredibile Uno pensa La provincia è Roma Invece no A Milano Mi vengono a dire A maggior ragione Va bene lo stesso E io poi non so Come si risponde Perché Ah grande Sì è proprio una frase Che ho detto Una volta in macchina Super E ti è capitato Di uscire anche dal tuo contesto Tu prima vavi scherzando All'inizio hai detto Io non frequento Gli altri VIP Eccetera Però c'è qualcosa Di assurdo Che ti è capitato Con personaggi O contesti In cui mai avresti pensato Di essere O persone con cui mai Avresti pensato Di dialogare O gente che Ha dimostrato stima Nei tuoi confronti E non te l'aspettavi Ah che stima Ti ho detto tre cose Recentemente mi hanno detto Che Dorie Ghezzi È una mia fan Sì No no Sì beh è capitato Non lo so Di essere in un contesto Proprio Beh sì Mi è capitato Adesso non ricordo Però sì No diciamo che è una cosa Che capita Che diceva Vedi mi conosce uno Che pensavo di conoscere io E di cui tu Ma con i personaggi Soprattutto quelli dell'infanzia Certo Tipo Cristina D'Avena No non Cristina D'Avena Però che ne so Max Pezzali L'ho riuscito Cioè comunque sapere che Ah quindi Max Pezzali conosce me Cioè pensavo che io Conoscessi Max Pezzali Come Dalla che mondo è mondo Siamo noi Che conosciamo lui Invece Beh poi L'ho molto attento E' molto bravo Quindi E' come lui d'anti Insomma E invece contesti Cioè nel senso Programmi Cose che ti hanno invitato Che tu dici Che cosa ci faccio qui Cioè in positivo E in negativo Sì sì No ma A me diverte in realtà Più il programma E' lontano Ma poi lontano Insomma Sono programmi Che percepisco Che sono brutti Oppure che proprio Rischio di non funzionare In nessun modo Non Non ci vado Però se Si capita di fare una cosa In un programma Che magari Non Non è solito Ospitare Persone tipo me Ci posso pure andare E provare a Cioè alla fine è come Quando vai a casa Di amici che non conosci Insomma Non è che Non c'ho Come la vivi La televisione Il mondo della televisione È come una cosa Che vedo a casa E poi ogni tanto Ci sto io È strano Cioè Quando ci vado È strano Però poi Alla fine È il lavoro Pure quello È come fare E invece Quanto è stato bello Portare la tua band In giro E far farle cose Anche con loro Nel programma Credo che sia Un grande orgoglio Sì sì Quello è stato divertente Perché con la band Si chiamano Vazzanicchi Suoniamo da una Io dico sempre 12 anni Però a me sono 3 anni Che dico che suoniamo Da 12 anni Quindi forse 15 Forse stiamo Non lo so Suoniamo da tantissimo E quest'anno Un po' Diciamocelo Forti della cosa Televisiva Così siamo riusciti A fare Delle date Fuori da Roma Noi abbiamo suonato Per 12 anni Sempre a Roma Nei locali di Roma Al massimo Siamo andati A Orvieto E una volta Abbiamo fatto Un matrimonio In Calabria Qualche matrimonio Però no Siamo sempre stati A Roma Nei locali di Roma E quindi è stato Divertente Portare anche Quella cosa Lì in giro Siamo venuti L'abbiamo fatto Solo quest'estate Un tour Siamo andati Mai nelle grandissime Città Ma siamo venuti La cosa più vicina A Milano È stata Seregno Seregno Però non è figato Pensare che era il gruppo Con cui appunto Facci prima Un po' di fatica Perché comunque Vi dovete far conoscere Sei riuscito A portarli Ma poi non ci siamo mai Fatti conoscere Perché noi ci chiamiamo Vazzanicchi Quindi quando dici Che vai a sentire Stasera Vado a sentire I Vazzanicchi Tutti Ahà Figa l'idea Chi capiva la battura La maggior parte Non capivano neanche Anzi alcuni ci hanno detto Ma ci avete mai fatto caso Che vi chiamate Sin Però il problema È che si scrive V-A-Z-Z-A-N-I-K-K-I Quindi Nessuno sapeva Neanche come cercarci Perché si scordavano Poi scrivevano male il nome I Trattino Vazzanicchi Perché quel trattino Che Chi l'ha messo Quel trattino E quindi Non è mai diventata La cosa Però sempre Pubblico di amici E amici di amici E amici di amici di amici Quando le cose andavano bene Tu disegni anche molto bene È una cosa che hai sempre fatto La porti avanti In qualche modo Sempre fatto Provo a portarla avanti Disegno sempre Ma non Non riesco mai A creare Una Un fumetto Una cosa lunga È una cosa che ti piacerebbe Sì 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 tantissimo Ma purtroppo Quando lo faccio O ci metto tanto Oppure non accetto I miei disegni Quindi li rifaccio più volte Dovrei invece mettermi E farlo Non li facevo In passato Ho fatto delle cose Sì sì E invece di Persone che a te Fanno ridere Che segui Che guardi Beh Vabbè Quelli proprio Atavicamente Non so se Atavicamente È un avverbio Però fa freddo Cioè ci metto sempre Leslie Nielsen Mel Brooks Quella roba là Banale Ti dico anche Totò Cioè non sono Quelli che dice Totò Asip È passato Non so se esistono Quelli che lo dicono Beh salutiamo Napoli Salutiamo tutta Napoli Bellissima Peraltro pensa A curiosità Totò era di lì Ma dai Mi è venuto in mente adesso Così di dire Napoli Tu hai detto Napoli Per salutarla L'ho buttata lì Sì sì Lui era da quelle parti Poi se vai lì a Napoli Alcuni lo Se lo ricordano anche Credo ci sia una pizzeria Aspetta Dove è C'è una foto Proprio sua Sì No però è Che è spizzico Possibile No non è spizzico Io Spero Cioè non credo Che l'abbiano mai messa Sul cartone Perché sul cartone Della pizza Ma poi che c'entra Una è un cibo L'altra è un attore Scusa Come se mi metti Qui c'è anche io Soprano a bistecca È roba proprio Che non ha senso No vabbè Poi Della Te l'ho citata Un po' Pozzetto C'è una foto Ho fatto un pranzo Mangiavamo Però nell'immaginario Collettivo È molto bene Sì sì Mannaggia Perché Chissà che idee hanno Veramente Scusa Cosa pensa la gente Di te No ma non pensano niente Ma no pensano invece Che devono pensare Eh non lo so Vedono una cosa Ah divertente Poi finisce Cioè pensi Come io Però c'è un'aspettativa Secondo te Ogni volta che compare Ogni volta Magari quando ti vedono Per strada Ma forse sì Però Ed è Cioè È più dal punto di vista Ognuno C'è un punto di vista Chiaramente egocentrico No Quindi ognuno dice Ah adesso Se faccio questa cosa Poi la gente Adesso però Non posso far uscire Insieme due cose Perché già ho quelle Proprio in realtà Siamo talmente tante persone Chiaro Che non è che stai a pensare Cioè se tu Adesso Oltre a Basement Fai Uscire Un tuo fumetto Non è che dico Mi piacerebbe Aspetta Sta facendo due cose insieme No Cioè per me Sta a fare Poi subito dopo C'è un altro No io anzi A volte Però ho questa paura Perché io invece Mi metto a fare tante cose insieme Ho sempre paura Che poi la gente Non stia dietro Sì lo so Lo so è vero Ma sai una cosa Ah questa è interessante Ho fatto un sogno Eh Di solito mi scordo I sogni Questo me lo sono ricordato Stavo C'eri te Cecilia Atanasio Moglie di Edoardo Ferraio Posso parlare di nomi Di mariti Pazzesco Edoardo Ferraio Conosci Edoardo Ferraio Sì Che è stato anche qui È stato anche qui E infatti anche Edoardo Sta volando Ha sfondato Sta volando Eh vabbè Però non è neanche giusto ricordarlo Ero con lui Nel sogno Con lei Con un altro nostro amico A un certo punto Ci arrivano dei pacchetti natalizi Li apriamo E ci sta Un video No il videogioco Un Sai quelli cosi con l'acqua Quelli cosi che spingevi Le Certo bellissimo Che mandavi sui Pazzetti Di Un personaggio noto Che esiste Cioè dentro questo gioco No no Erano i suoi Facciamo finta che erano Di Gianluca Cazzoli Non eri te Non eri te Era un'altra persona Non la dico C'è un motivo Ho detto Edoardo L'ho detto Però è un sogno È un sogno Ma non lo dico Ok E questa persona fa Dice Ah questi sono i giochini ad acqua Che ti manda Gianluca Cazzoli Non eri te Non ero io Era un altro Allora loro ci giocano Così Io non lo guardo E dopo un po' Mi trovo che per sbaglio Lo mangio E me lo finisco Valerio ma Ma l'hai mangiato Senza giocarci E io ho detto Secondo me Stiamo facendo tutti Troppe cose E secondo me Questo sogno Mi ha fatto pensare Che se un giorno Io farò uscire Il mio Ufficiale Giochino ad acqua Tu Gianluca Mi devi dire Valerio Fermo È troppo Sì Quello è troppo Basta E questa persona È Stefano Rapone Che fa le magliette Di se stesso No scherzo Non è lui Non è lui Un attimo Mi chiamano da fuori La regia Chi è? No no Non è Non è Non è Allora Indovina anche tu Il personaggio Del sogno È un attore Hai baffi? No 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 Ma è una persona Che non neanche conosco Di persona Però non c'è Non hai detto niente Su di lui Però sai quelle cose Che magari lui lo sente E dice Ah quindi vorrebbe dire Io faccio i giochetti ad acqua Cioè è un attimo Che sembra un illazione Invece non lo è Infatti ho messo te Ai grazie Persona limpida Sì certo Pulita Grazie ti ringrazio È una cosa Che ti tengo molto Un passato di Di cocaina Però superato Superato alla grande Dimenticato Un passato di Relazioni Relazioni tossiche Con persone Non proprio maggiorenni Ma anche lì Ci siamo Abbiamo superato Gianluca E sei la persona d'oro Che tutti noi conosciamo E prima di chiudere Due cose al volo C'è qualcosa invece Che non ti piace Che ti fa arrabbiare Di quello che ti circonda oggi Te lo posso dire? Sì La guerra La trovo una roba Però io Cioè mi sembra un po' Forza Absoleta Mi sembra un po' forte da dire No no La guerra innanzitutto Non ti esporre così tanto E Pensa che chi lo dice Gli dicono sempre Oh ma ha avuto un coraggio incredibile Mi chiedevo Gli applausi sui morti No? Si fa sempre l'applauso Ora faccio Morti che ci dispiace a tutti Un Fabrizio Frizzi Se viene nominato il TV L'applauso Parte Parte Ma ti dico Lo faccio partire io Questo è un applauso Di festeggiamento No no Alberto Castagna Parte Ma forse piano piano La gente ti fa Vabbè È morto Perché è passato più tempo Troisi Ancora parte No Troisi è vero È passato più tempo Quanto Totò non parte Perché ormai L'hai detto tanto Cioè se è che se Amadeus Dice Oggi abbiamo I Mattia Bazzar Faranno un brano Che è a livella Che fu famoso Perché lo cantava Totò La gente non è che applausi Fanno Vabbè Totò Giulio Cesare Zero applausi Non è giusto Gesù Su Gesù qualcosa fanno Beh Gesù è risorto Quindi fai tipo È perché comunque Poi hai ragione Quindi quanto tempo Deve passare Perché smettano Di fare l'applauso O quanto importante Deve essere stato Secondo me è l'importanza L'importanza Tipo Raffaella Carrà Se lo butti lì Raffaella Carrà C'è l'applauso Elvis Presley Non c'è l'applauso Però è straniero Little Tony C'è l'applauso No perché No Perché purtroppo Non ha raggiunto Quello status Iconico Eppure è stato incredibile C'è quello che ripara Le televisioni Sotto casa Dei miei Grande fan di Little Tony Anche amico C'è i poster di Little Tony A fianco ai televisioni Un giorno sotto casa Non so se questa cosa Forse Scrisse Vabbè Forse perché magari È una minaccia Gli scrissero Little Tony A uno stronzo No Glielo scrissero Ma non è che glielo scrissero Con lo spray Con uno stencil Ma perché Cioè è fatto E lui l'ha fatto cancellare Forse era È un modo per dire Ce l'abbiamo contato E ci attacchiamo A un tuo amico Ma no È brutto Sarà una storia di pizzo Infatti per questo Mi sono un po' inibito Deve raccontarla Di tutti gli Gli sketch Cioè non sketch Di tutte le robe Che fai sui social Invece Qual è quella Di cui sei più orgoglioso Ah Delle cose nate Solo per essere Stati fatte sui social Sì Durante il lockdown Chiedevo Alle persone Di dirmi una canzone E io la cantavo Al contrario Ok E quindi Cioè tipo Non lo so Fate questo gioco Io faccio È difficilissimo Se te lo ribalti Viene una canzone famosa Della storia della musica italiana Spero Non lo so Si dice engagement Ma scusami A me avrebbe No basement No no Engagement Ci sta engagement Per il basement Sì sì Scusate È molto D'agenzia creativa milanese Questa cosa qui Sì 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 No delle gag Io pensavo Tipo a me fa molto ridere Quella challenge Che è nata Senza che tu volessi Che fosse una challenge Che una volta Io ti ho mandato Che un video dal Messico Dove tu dici una cosa Che è legata a qualcosa Che comparirà a breve Ah sì Molto difficile Spiegarlo a parole Moltissimo Però sì Ma quello nasce Da una sorta di Era diventata Lundini challenge Sì Pensa Pure lì Egomaniaco Però Non l'avevi No no L'avevano Tutta colpa degli altri Martina Catuzzi Fu la prima A farne una Che non era mia Quindi mi aveva E poi da lì Ne erano fatte altre Sì sì No ma quello A me diverte molto Quando io vedo Scritte di marchi O nomi di aziende Che hanno quei nomi Contorti Così che però Per me hanno un suono Simile a una parola Tipo io ero in Messico C'era un negozio Che si chiamava Ciula E io Sai che c'è il famoso detto Grande grosso E ciula Ah sì sì Nordico Credo E quindi avevo fatto Questa Questa qui E poi quella con Con la canzone E le transenne Che sembravano Delle O O delle U Non me la ricordo più Ah caspita Vabbè Questa è proprio un virtuosismo Impossibile spiegarla C'erano delle transenne Ricordo Ad Helsinki Sì C'erano delle transenne Che sembravano delle A Ah delle A E quindi io le ho inquadrate tutte Ci ho messo sotto Twist and Shout Dei Beatles Ma raccontata così Però quando fai tu queste cose Scatta quella roba Sul social Per cui tutti ti commentano Perché vogliono far vedere Che l'hanno capita Quando poi sono cose elementari No però non è facile Non tutti la capiscono C'è questa roba Che io faccio delle cose Terra terra Diciamolo tranquillamente Ci stanno delle cose Un po' più cerebrali Ma la maggior parte delle cose Sono poco più di scuregge E si crea questa cosa Del Io l'ho capito Mia madre no Perché c'ha centomila anni Ma non è vero La signora C'ha degli impegni Non è che può stare là A sentire la cazzata Che dice Valerio Lundini E quindi si è creato Tutto questo meccanismo Per il quale Credono che io sia elitario Quando dai Che fai Sei del popolo Sono del popolo Io vengo dalla strada Io mi sono fatto Quattro anni di carcere Beh dai Gianluca Salutiamo tutti gli amici Frati ingiustamente incarcerati Sì sì Per infrazione Per un parcheggio Una stupidaggine C'è ancora Va bene Però va già bene Che non c'è più la pena di morte Però Valerio Io ti ringrazio un sacco Io ringrazio te Per essere passato di qui E aver raccontato Tutte queste cose belle Secondo me è una puntata epica Però è chiaramente Una mia opinione personale No ma guarda Secondo me Ha coronato un'amicizia Che è nata prima del covid Sì E è finita Ora che è finito Questo covid Sono molto contento Perché è giusto così Grazie Gianluca Quando vai in onda questa Su Rayplay Va il No non lo so ancora Però no Lo sapevi L'unica puntata che lo sapeva Dovremmo fissare Il 5 di dicembre Prima di Natale Quindi si vuole fare gli auguri Di Natale a qualcuno Ragazzi Se non sapete cosa regalarvi Ricordate sempre La lettura La lettura Ci siamo capiti E No pensavo di metterne un altro Buon Natale a tutti E No veramente Che sia Un anno Quello nuovo Che viene Veramente spettacolare Per fortuna abbiamo debellato Abbiamo debellato il covid So che sta finendo anche la guerra E ci sono anche buone Buone notizie Per i nostri Amici diversi Dai Ho letto di grandi Grandi novità in arrivo Per tutti voi Grazie davvero Valerio Lundini Questo è un applauso Finto di gente vera